buongiorno a tutti e benvenuti a questa video analisi settimanale partiamo come al solito dal cambio euro dollaro e questa volta per dire che il cambio si è mosso non è rimasto lì fermo in attesa e si è mosso a favore di dollaro come si vede bene diciamo così in quest'ultimo periodo in questi ultimi giorni insomma il dollaro recuperato e di nuovo tornato a essere una valuta forte di riferimento forse anche per via di alcune debolezze europee siamo in un ampio trading range su questo su questa coppia di valute che va da 1 0 4 50 circa fino a 1 11 70 con questo spike diciamo un po più sopra e ora sembriamo diretti verso il livello intermedio di 1 0 6 vedremo se il mercato andrà ad arrivare proprio lì e conseguentemente è il dollar index come si dice cioè il dollaro a dimostrare di avere grande forza c'è una fortissima resistenza sul dollar index che è poco sotto i 106 la vediamo qua vedremo se il mercato vorrà andare a testare questo livello andiamo a vedere subito dopo i rendimenti e osserviamo un fatto e cioè questa settimana si sono comprati i bonds e i rendimenti sono decisamente scesi lo si vede nelle ultime cinque sessioni insomma il mercato non lascia adito a dubbi né sul decennale americano né sul bund tedesco lo vedete qui ultime quattro sessioni poi proprio a rotta di collo si è passati dal 2 e 67 di rendimento sino all'attuale 2 e 35 chi si è mosso meno invece è stato il btp il btp è rimasto all'incirca lì in quell'area 3 95 4 per cento che rappresenta diciamo così l'area il livello di resistenza ed è interessante osservare questo fatto perché vuol dire che è cresciuto lo spread vuol dire che i maggiori acquisti fatti sui bund tedeschi alla ricerca di maggiore sicurezza in europa non hanno aiutato diciamo così il nostro btp che è rimasto lassù appeso è salito anche in maniera decisa il tlt cioè il l'etf dei treasury long term ha superato diciamo d'un sol balzo un sol boccone l'area 92 30 ed è già diciamo oltre anche la resistenza successiva l'intorno quell'area dei 94 e 60 come vediamo insomma siamo intorno a questi valori quindi interessante anche la situazione ma andiamo anche a guardare che cosa succede sulle commodities col petrolio che un po alla ricerca di se stesso sempre sotto gli 80 dollari rimane lì in attesa di capire se avrà una storia sopra gli 80 dollari che è questo livello rappresentato qui da questa diciamo linea interessante oppure se dovrà tornare indietro il supporto lo ha messo chiaramente in area 72 e 50 andiamo anche a vedere altre materie prime come loro che si conferma nel trading range è andato quasi a sfiorare il minimo di 2002 e 80 ora è ancora lì nell'area di reazione non è ancora riuscito a rientrare nel trading range importante significativo precedente di più breve periodo però insomma promette questa settimana di dirci qualcosa di più interessante chi cerca un punto d'appoggio un campo base è il rame lo vediamo bene qui e anche l'argento che chiude la settimana poco sotto l'area 30 e come si vede diciamo così non riesce per ora a tornare sopra quei livelli conclamati sopra un po sopra 30 che sono le vere resistenze quindi staremo a vedere che cosa succederà sembra che abbia trovato il suo punto di difficoltà ecco ora che invece andiamo a dare un'occhiata a quello che è il future del gas naturale che si vede che sta tornando indietro stiamo guardando questi grafici nella versione adjusted come si vede senza la versione adjusted il l'argento sarebbe un po lì intorno a quella soglia dopo aver visto attualmente dei massimi un poco più alti comunque insomma sempre interessante questa situazione passiamo al vix sotto 13 in realtà 12 60 il vix in questa situazione dice da quello che vedo il vix dice potete stare piuttosto tranquilli con gli investimenti attenzione però perché gli spike sono sempre possibili e sicuramente guardate il valore 10 lo dice diciamo così che lo spread nasda crassel che vi sto facendo vedere da qualche settimana da quando è in odore no questo movimento forte dei titoli tech beh si vede che razza di movimento ha fatto sempre accelera in maniera feroce quando fa spread di questo tipo possiamo vedere i mercati asiatici tutto sommato come dire alla ricerca di un eventuale breakout il nikkei e invece torna sui livelli precedenti e quindi ritorna a riflettere su questo minimo il csi 300 cioè l'indice di shanghai mentre è in pieno pullback dopo la sparata verso l'alto legata al breakout dei 17.200 punti dell'ansenne che ora sta scivolando indietro chissà se sarà un pullback facciamo diamo una rapida occhiata anche al nostro futzimi che è quello che ha visto diciamo così il crollo più significativo lo vediamo molto bene e molto evidente si è fermato su un'area di sostegno intermedia e ha come livello poi successivo stante la veloce crescita proprio il lungo e lento evolversi di questo di questo laterale però è difficile ipotizzare che tutto d'un pezzo scenda con questa vertiginosità staremo a vedere e questo lo dico anche perché altri indici europei come l'euro stock si trovano già su un'area vista come supporto e come dire in qualche modo ben meglio stanno invece guardate la differenza indici come l'euro stock 600 o come il dax che anche lui arriva qui sulla prima fascia di supporto veramente utile però ha poi quest'area dei 17.600 sotto che come dire sembra ancora più concreta strano il movimento sugli altri mercati americani allora noi abbiamo il new york stock exchange a ribasso stabile è stabile è il dow jones lo vedete sicuramente a ribasso il russell meno 1.60 e oltre mentre noi abbiamo diciamo così il nasdaq e l'S&P 500 a rialzo perché perché qui lo abbiamo detto tante volte non ci stancheremo mai poche società del settore tech hanno un peso specifico così grande che sono determinanti anche nella versione adjusted cioè senza guardare l'interesse che aggrava i futures della nuova scadenza di settembre vediamo che qui si è andati a fare i massimi storici anche sull'S&P 500 in maniera molto differente di quanto sia successo sul russell la differenza e qui adesso noi possiamo andare a vedere la situazione europea in particolare quella italiana abbiamo visto il fuzzimib guardiamo ora il fib che differentemente dal fuzzimib proprio per via del fatto che ha già scontato in precedenza i dividendi qui siamo su una fascia di supporto intermedia e ancora lontani appunto dal livello precedente ma qui noi abbiamo anche una sferzata di titoli che hanno grafici piuttosto significativi guardiamo per esempio il titolo a 2a no che un po come nel vedete è stato respinto da una forte resistenza ed è in un ampio trading range un po della stessa famiglia anche di enel anche nel respinto da una resistenza forte uno dei titoli che invece si distinguono nel rialzo e amplifon che potrebbe avere a target una situazione significativa amplifon che fa parte di una famiglia di titoli che sono un po meno coinvolti anche se come dire non è che abbiano grafici eclatanti campari per esempio continua nel suo ampio trading range è un po meno coinvolto di tutti gli altri in questo bailam di questi giorni però non dà segnali di particolare forza andiamo a vedere anche di assorin che ha un grafico tutto sommato interessante ma che pericolosamente si porta sul vecchio livello di resistenza ora supporto che vediamo qui e insomma questo è un titolo che deve trovare la forza se vuole come dire ambire a qualcosa di più di superare questa forte resistenza che ho disegnato graficamente e anche qui staremo a vedere l'ultimo dei titoli che secondo me sta un po nel limbo è ferrari vero che ferrari ha tre massimi decrescenti è vero però che è tutto sommato in un ampio trading range più o meno da 370 a quest'area un po sopra i 400 da un bel po di tempo staremo a vedere che cosa succederà e come ne uscirà due titoli del settore petrolifero sono interessanti da guardare perché hanno lasciato supporti importanti uno è saipem lo vediamo qui ha lasciato il primo supporto quello in area 2 12 però si trova intorno all'area 2 che è un supporto naturale perché è anche un prezzo pieno vediamo pericoloso sotto invece il titolo un titolo che ha lasciato un supporto molto importante che è l'area 14 è senz'altro eni siamo già a 13 50 lo vediamo qui 14 diciamo così nel grafico è molto ben visibile una linea retta diciamo di supporto importante nell'ampio trading range che è durato praticamente un anno adesso siamo usciti verso il basso vediamo dove vorrà rivolgersi appunto anche eni c'è un altro titolo che secondo me è interessante altri due anzi secondo me sono interessanti da guardare a piazza affari il primo è stellantis lo vediamo qui che insomma si muove addirittura sotto quel 19 20 che sembrava fin troppo ambizioso a tendere come livello di supporto siamo andati sotto si chiude un testa spalle una figura un po anomala con una testa molto alta è una spalla destra un pochino più atrofizzata però la figura c'è tutta ci sono anche i volumi sul breakout quindi staremo a vedere che cosa succederà anche qui insomma sembra però è tutto è avvenuto molto in fretta e tutto è avvenuto in escato dai bancari francesi altri titoli francesi e poi riversatosi sui bancari italiani quello che ne ha risentito di più anche a breve termine è stato unicredit guardate che movimento piuttosto negativo ma tutte le banche diciamo così hanno avuto la loro parte questa è intesa san paolo che è arrivata praticamente nei pressi dell'area 3 25 e lì ha subito reagito ma poi possiamo anche dare un'occhiata un po a tutte le altre banche e anche i titoli del risparmio gestito guardate azimut guardate mediolanum tutti i titoli che insomma hanno visto i loro prezzi scendere in maniera sensibile molti di questi titoli guardate popolare milano si sono appoggiati su livelli di supporto importanti queste popolare sonde addirittura un livello già testato in almeno tre occasioni nel 2024 che ha sempre comportato rialzi quindi sarà interessante anche vedere la nuova settimana come partirà perché di solito questi tuffi a piombo poi portano qualche reazione bisogna stare all'occhio i prezzi sono golosi come scrivo però come dire bisogna anche prestare attenzione si può anche passare a vedere alcuni titoli americani ce ne sono tanti e qui ce ne sono tanti anche interessanti da guardare perché qui c'è tutto il comparto tech e non solo che va tutto a rialzo lo vediamo bene questa è netflix che fa l'ennesimo breakout molto interessante a rialzo ma non è l'unico perché ci sono tanti titoli americani che vanno a farsi nuovi massimi dell'anno nuovi massimi storici queste tgx assolutamente di nuovo diciamo così interessante da monitorare e questa è coerent corporation lo vedete qui di nuovo bel movimento ma stiamo anche un po' sui titoli di più grande capitalizzazione ne abbiamo tre in pochissimi come dire che per pochissimi miliardi che a questi livelli sono niente contando che sono oltre i 3 trillions di capitalizzazione anzi i 3.2 trillions di capitalizzazione c'è stato un breakout di microsoft estremamente interessante lo guardiamo questo è il movimento del titolo nvidia che come vedete dopo lo split comunque andato ulteriormente ad apprezzarsi quando c'è stato lo split il titolo valeva 1200 circa quindi 120 siamo già a 131 saremmo oltre i 1300 del vecchio conio prima dello split ma il titolo protagonista insomma diciamo così della stima è stato senz'altro apple con quel breakout che sta cercando di consolidare improvviso stante l'accordo sviluppato con chat gpt davvero estremamente interessante ci sono altri titoli tra quelli molto significativi che potrebbero anche vedere o essere in prossimità di un breakout significativo andiamo a vedere google per esempio che è qui davanti a noi e anche google andando a vedere il dettaglio delle ultime sessioni insomma è lì proprio nei pressi dei massimi storici vedremo come si comporterà chi invece tra quelli importanti ha già come dire mostrato i muscoli è broadcom lo vedete sui dati breakout molto importante movimento a rialzo molto forte ci sono anche titoli di settori un po diversi che si sono mossi bene il primo è cosco andiamo a vederlo anche qui dopo un grande rialzo di nuovo uno spunto diciamo rialzista importante ecco qua un reit un real estate investment trust che si chiama invitation homes e che guardate qui non c'è breakout ma siamo molto vicini a un'area di resistenza molto forte e molto interessante e poi andiamo a vedere diciamo eccolo qua arrivare regeneron farm un farmaceutico vanno molto di moda i farmaceutici non dimentichiamoci mai di titoli come elai lilli lo vediamo qua sempre diciamo sempre diciamo così un po in cima e novo nordisc lo vedete qui si parla molto anche in questi giorni di questi farmaci sul diabete qui danno insomma vi ho fatto un po una panoramica di titoli italiani vedendo quelli un po fuori dagli schemi quindi interessanti come amplifon ma anche quelli più coinvolti in questo ribasso quindi attenzione a prezzi che appaiono golosi l'europa sembra un po sotto il tiro degli investitori che fanno un po di cash out mentre in america ci sono alcuni titoli interessanti in un contesto che sembra più sempre più come abbiamo visto da quello spread titoli tech contro tutto il resto insomma per questa settimana è tutto alla prossima ciao